Prima di ritorno nel campionato di eccellenza femminile al Nello Mancini dell'Aquila di fronte dell'Aquila Soccer Women e Bellante. Il successo finale ride alle biancorosse ospiti che si impongono per 0-2. Il primo spunto di cronaca al quinto è di Mark Aquilana. Berardi cerca la porta da appena dentro l'area ma il tentativo si perde di poco alto sulla traversa. Il Bellante risponde al 26esimo e si porta in vantaggio punizione dalla lunga distanza della battuta si incarica Giovagnoni che va direttamente a rete e trova il gol approfittando dell'errore di De Matteis. Passano 4 minuti e l'Aquila Soccer Women va ad un passo dal pareggio punizione di Martina Santarelli indirizzata all'incrocio dei pali. Antonelli ha due mani disinnesca e tiene avanti le biancorosse. Bellante che al 38esimo sfiora il raddoppio con Amante la cui rasoiata sfiora l'incrocio dei pali. Le ragazze ospiti poi proprio in chiusura di prima frazione raddoppiano grazie alla stoccata di Bianconi. La numero 7 riceve palla all'altezza del vertice alto dell'area di rigore e scarica un tiro potente e preciso che si va ad insaccare alla destra di De Matteis. Ripresa pronti via ed occasione per l'Aquila Soccer Women cross dalla destra stop e girata di Ventresca Antonelli blocca. La numero 1 del Bellante protagonista anche al 19esimo quando disinnesca con i pugni un tentativo di Berardi dal limite dell'area. Il Bellante forte del doppio vantaggio amministra ma l'Aquila Soccer Women rimane in partita e al 35esimo all'occasione per riaprirla. Ventresca va via di forza un'avversaria a prova il tocco vincente sull'uscita di Antonelli ma manca il bersaglio grosso. Non succede nient'altro fino al triplice fischio finale. Tre punti quindi per il Bellante e per l'Aquila Soccer Women invece si potrà ripartire dal carattere mostrato nell'arco dei 90 minuti di gioco. Marco Tobia direttore generale dell'Aquila Soccer Women comincia il girone di ritorno con una sconfitta 2-0 in casa con il Bellante. Al netto del risultato però è piaciuto l'atteggiamento della squadra fino alla fine ha cercato di riaprirla, di rimanere in partita. Si può, si deve ripartire da qui in definitiva? Si, un girone di ritorno che sicuramente ci dà degli ottimi feedback in quanto la partita è stata veramente giocata benissimo dalle ragazze e devo dire forse il miglior primo tempo del nostro campionato nonostante appunto la classifica alla conclusione del giorno di andata non abbia dato quello che speravamo all'inizio della stagione. Ad ogni modo devo dire che abbiamo qualche difficoltà in quanto da qualche partita non riusciamo a schierare il nostro portiere per il protocollo Covid e per qualche problemino col Covid e quindi veramente ringraziamo tantissimo la nostra calciatrice Agnese De Matteis che si sta prestando in un ruolo che non è suo e che purtroppo come abbiamo visto al primo tempo forse nel primo gol è un pochino di indecisione ma è normale che non essendo un portiere ci ha creato un po' di problemi. Le ragazze hanno reagito benissimo e veramente complimenti al portiere del Bellante che si è dimostrato un portiere di categoria superiore lo sapevamo ma certamente la squadra ha saputo capitalizzare le ospiti questo risultato del 2-0 ma ci dà grandissima fiducia già per domenica prossima dove nella trasferta con il campo di pietra squadra tra le titolate a salire di categoria certamente faremo un'ottima partita. Con Pierluigi Manucci allenatore del Bellante calcio femminile comincia bene il vostro girone di ritorno 2-0 all'Aquila Soccer Women, due gol nel primo tempo per chiudere il discorso amministrazione del risultato nel secondo tempo insomma una bella domenica per voi. Sì indubbiamente è stato un risultato positivo ripeto lo stavo dicendo al mister che noi ci aspettavamo questa squadra perché secondo me vista l'andata non era una squadra che merita questa classifica sicuramente ha avuto le difficoltà che abbiamo avuto anche noi tra Covid, infortuni e cose rare però oggi è stato un buon risultato come iniziamo bene e speriamo di proseguire come il nostro obiettivo è quello di fare un campionato discreto buono niente di che insomma i presupposti ci stanno. Il direttore Tobia ha messo in luce la prestazione del vostro portiere un paio di interventi non banali. Vero, giustissimo, non è stata semplice abbiamo fatto due gol al primo tempo è stata una gestione difficile il nostro portiere sull'1-0 ha fatto una grossa parata sulla punizione per fortuna. Bene è così.